Benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale, apriamo con una notizia che riguarda l'ex amministrazione della città di Alessandria, infatti oggi alla procura della Corte dei Conti di Torino si tiene la prima udienza del processo sul crack della città di Alessandria, è un'udienza di natura civilistica e deve valutare l'operato dell'ex sindaco Piercarlo Fabio insieme a quello di altri assessori come quello al bilancio Luciano Vandone, all'ex ragioniere capo Carlo Alberto Ravazzano, inoltre il processo servirà a valutare la posizione dei consiglieri comunali che all'epoca avevano approvato il bilancio del Comune. Iniziata alle 10 del mattino di fronte alla magistratura contabile ci sono gli avvocati difensori degli ex amministratori Alessandrini e presente anche l'avvocato dei consiglieri comunali che hanno approvato il bilancio, la loro posizione però sembra essersi alleggerita perché erano stati indotti da comunicazioni non veritiere a valutare in modo errato i numeri del bilancio, anche se comunque permane la negligenza dei consiglieri per non aver tenuto conto del parere dei revisori dei conti che era contrario all'approvazione del documento. Cambiamo argomento, quali vie d'uscita per il dissesto finanziario se lo chiede la CISL di Alessandria con il comparto Funzione Pubblica che sabato nei locali dell'Associazione Cultura e Sviluppo analizzerà l'attuale situazione nell'ambito di un convegno aperto alla cittadinanza. Ma sentiamo il servizio. Il dissesto finanziario locale è l'uscita dall'emergenza. È il titolo dell'importante convegno che la CISL di Alessandria insieme alla dirigenza regionale del sindacato e al comparto Funzione Pubblica organizza per sabato 15 dicembre. Un vero e proprio momento di approfondimento che sarà aperto a tutta la cittadinanza e al quale prenderanno parte autorità e vertici del sindacato. Donante il dibattito saranno illustrate numerose relazioni, compresa quella incentrata su razionalizzazione e riqualificazione della spesa pubblica nella crisi attuale, a cura di Giancarlo Astegiano, consigliere della Corte dei Conti del Piemonte e relatore della delibera del 27 giugno 2012 che ha accertato la situazione finanziaria del Comune di Alessandria. La nostra iniziativa, spiegano dalla CISL, punta a illustrare alla cittadinanza il significato concreto della parola dissesto, parlando non solo di come si è arrivati a questa situazione, ma soprattutto in che modo è possibile venirne fuori. Uscire dall'emergenza significa rilanciare l'azione sindacale con la contrattazione ai tavoli, i tavoli che abbiamo istituito, i tavoli singoli delle aziende e poi il tavolo confederale finale, perché ci siamo detti insieme a CGL e UIL che da questa situazione noi vorremmo che tutti ne uscissero col posto di lavoro e vorremmo che tutti i cittadini di Alessandria possano continuare ad avere i servizi che hanno. È un obiettivo irrealizzabile? Non credo. Io credo che comunque per questo obiettivo valga la pena di lottare e di combattere fino all'ultimo. Abbiamo, diciamo così, dalla nostra un'amministrazione comunale, sindaco in testa che condivide questi obiettivi. parlamentari, autorità regionali, amministratori locali hanno preso parte a Novi Ligure alla conferenza sul delicato e fondamentale tema della sanità. All'incontro erano presenti anche operatori dell'ospedale cittadino ed esponenti di comitato. Ma ci racconta tutto Enrico Maria. Un incontro utile a raccogliere ulteriori elementi di discussione e confronto sul futuro dei servizi socio-sanitari locali. Così il sindaco di Novi Ligure, Lorenzo Robbiano, ha definito la conferenza sulla sanità che si è tenuta presso la biblioteca civica. All'incontro pubblico, tra gli altri, erano presenti l'onorevole Mario Lovelli, il consigliere regionale Rocchino Mugliere, numerosi consiglieri comunali ed altre autorità locali, nonché vari operatori dell'ospedale San Giacomo, i rappresentanti del neonato comitato Salviamo l'ospedale di Novi e semplici cittadini. In apertura la relazione dell'assessore alla sanità Felicia Broda ha messo in evidenza la preoccupazione per l'attuale stato di incertezza rispetto al piano sanitario piemontese. Gli obiettivi, ha affermato l'assessore Broda, sono quelli di ridurre la spesa, ad esempio attraverso la revisione della rete ospedaliera, ma, ha proseguito, le scelte non sono chiare e soprattutto non sono state discusse a livello territoriale. I motivi di preoccupazione sono stati confermati dagli stessi operatori che vivono in uno stato di disagio dovuto all'incertezza sul futuro della struttura ospedaliera novese. Nel corso della riunione sono emerse varie proposte, tra cui quella avanzata dal consigliere comunale Bruno Motta di indire una manifestazione pubblica per sensibilizzare la comunità novese sulla questione sanitaria. Al termine dell'incontro si è poi convenuto di predisporre un documento dettagliato che verrà poi portato all'attenzione della prossima riunione della Sise. Grazie anche ai temi emersi nel corso della serata, ha spiegato il sindaco Robbiano, abbiamo tutti gli elementi per redigere un documento puntuale che confido ottenga l'appoggio unanime del Consiglio Comunale per salvaguardare le eccellenze dell'ospedale novese. È chiaro, ha poi proseguito il primo cittadino, che la situazione attuale della sanità non può prescindere dalla razionalizzazione delle spese, ma ha concluso Robbiano, ciò non deve avvenire a scapito dei servizi sanitari rivolti ai cittadini. Parliamo di un caso di giudiziaria, un'innovativa sentenza, potremmo definirla, della Corte d'Appello di Torino. Un datore di lavoro è stato considerato colpevole di infortunio, anche se è stato il dipendente ad aver sbagliato. Vediamo il servizio di Emma Camagli. Un datore di lavoro ha l'obbligo di prevenire comportamenti di imprudenza da parte dei lavoratori, anche se distratti, frettolosi o addirittura negligenti. È questo il senso della sentenza della Corte d'Appello di Torino, che ribaltando quella del Tribunale di Alessandria, ha condannato un imprenditore, assolto in primo grado, a pagare danni a un operaio rimasto gravemente infortunato. Leonardo Cocco, titolare di omonima impresa, che nel 2007 aveva allestito un cantiere nella ditta Bioindustria di Novi, era imputato di lesione ai danni dell'operaio Antonio Olivieri, dipendente di Bioindustria. Era entrato in quel cantiere, caduto in una cisterna che la ditta Cocco stava sabbiando. Riportò un'invalidità permanente del 27% e una malattia di 270 giorni. Cocco fu assolto perché Olivieri era stato imprudente e nel cantiere non doveva entrare. La Corte d'Appello, chiamata a esprimersi solo per una valutazione di responsabilità civile, ha ribaltato la sentenza accogliendo la tesi dell'Avvocato Giuseppe Cormaio, legale di Olivieri. Per ottenere il risarcimento danni è necessario comunque ricorrere a una causa civile. Andiamo ad Asti. La scorsa notte un incendio ha distrutto in via antico Ippodromo il solarium Diamanta, specializzato in abbronzature e cure di bellezza. Ma secondo un primo rapporto del comando dei vigili del fuoco e della polizia scientifica, l'incendio sarebbe di origine dolosa. All'interno infatti sono state trovate due tanniche contenenti ancora benzina e comunque la forte esplosione che è stata causata ha svegliato gli abitanti della zona e ha scaramentato a distanza la porta d'ingresso. Ladri negli cimiteri di Sesson e Cinaglio in provincia di Asti. I malviventi hanno fatto razzia di lapidi di marmo, grondaie e vasi in rame, lampadari in ottone e persino una grande porta in cristallo. I raid ad un'ora di distanza l'uno dall'altro, i danni maggiori nel cimitero di Cinaglio. Sul posto la polizia scientifica e i carabinieri che indagano sugli episodi. Il fenomeno dei furti nei cimiteri nella campagna stigiana è un fenomeno sempre più frequente. Più di 8 incidenti su 10 si verificano dopo una frenata. È il risultato di un recente studio. Secondo gli esperti un impianto frenante in buone condizioni può contribuire a ridurre gli incidenti stradali. Sentiamo nel servizio. 86 incidenti stradali su 100 avvengono dopo una frenata, in molti casi violenta e improvvisa. È il risultato di un recente studio che ha messo in evidenza questo dato per quanto riguarda i sinistri registrati in Piemonte. Un dato che in Valle d'Aosta tocca quota 87,6%. Scorporando i numeri per provincia si scopre che il territorio dove questo particolare aspetto ha una maggiore incidenza rispetto agli altri è il Torinese dove si supera l'88%. Distanti Vercelli, Novara e Alessandria, quarta con l'84,4%. Studiare con precisione la dinamica degli incidenti, secondo alcuni esperti, può essere sicuramente utile per mettere a punto con l'ausilio della tecnologia sistemi più efficienti e performanti, in grado di proteggere e garantire maggiore sicurezza agli automobilisti. Ecco il perché di tanti studi, come quello incentrato sul sistema dei freni, uno degli aspetti certamente fondamentali per un veicolo. Per questo è importante controllare sempre con grande attenzione lo stato dell'impianto frenante per assicurarsi che sia sempre perfettamente funzionante e che non siano presenti anomalie o usure. In questo caso tuttavia diventano molto importanti anche i pneumatici che nel limite del possibile devono sempre essere in ordine e sotto controllo. Insomma, accertarsi periodicamente del buono stato di salute di alcune componenti della nostra auto è fondamentale per prevenire conseguenze. Un sistema di freni efficace e in buono stato, per esempio, riduce sicuramente lo spazio di frenata e può quindi diventare fondamentale quando la strada ci mette di fronte a situazioni impreviste, dove contano soltanto la nostra prontezza di riflessi e il funzionamento di ogni componente della vettura. Il tutto senza dimenticare le principali norme di comportamento da tenere quando ci si trova la guida, adeguare la velocità anche e soprattutto in considerazione delle condizioni meteo e mantenere le distanze di sicurezza. Andiamo a Tortona dove sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa dal sindaco Massimo Berutti e dal dirigente del settore territorio e ambiente Pier Benedetto Mezzapelle i programmi di riqualificazione urbana. Alla fine il sindaco ha dichiarato che la cosa più importante in termini di prospettiva per la città è la passerella ciclopedonale che passerà sopra la ferrovia unendo il parco dello Scrivia a Piazza Duomo, creando così un collegamento tangibile e forte tra il centro cittadino di Tortona e l'area oltre la ferrovia, in particolare grazie ad una rotatoria che sarà l'accesso principale da nord all'area per chi proviene da fuori Tortona. Inoltre sarebbe permesso il rapido raggiungimento del casello autostradale grazie anche alla costruenda variante stradale esterna all'abitato della città. Verso sud invece i collegamenti saranno costituiti dall'emissione su via Franceschino da Baxilio a sud-est, costituente il collegamento principale con il centro città e sua via Ferrari a sud-ovest. Di grande rilievo il collegamento diretto che sarà realizzato mediante percorso promiscuo ciclopedonale tra il parco dello Scrivia e il centro città. Principale obiettivo comunque è relativo alla valorizzazione di un complesso immobiliare dell'area Ex Tabacchi tramite un recupero ecosostenibile del sito Dismesso. Il secondo obiettivo è la ricomposizione del tessuto urbano periferico, mentre il terzo è di rilevante importanza la creazione di un elemento connettivo tra il centro città e il parco dello Scrivia. Si tratta anche di una grande opera di riqualificazione ambientale in quanto quasi tutti i capannoni hanno il tetto in amianto e una riqualificazione necessaria. Andiamo adesso ad Acquiterme, c'è un'iniziativa natalizia che si chiama Le Casette. Le casette natalizie di Acquiterme creano la giusta atmosfera natalizia. Bene ha fatto quindi il Comune ad organizzare l'iniziativa. Luci, colori e atmosfera nordica. La novità di quest'anno delle casette si sta dimostrando molto interessante ed è destinata a un movimento anche lo shopping natalizio, specialmente nei negozi del centro storico. Le casette costituiscono in questo Natale, dice il sindaco Enrico Bertero, certamente la novità principale, anche perché nelle stesse hanno trovato una degna collocazione ai mercatini di Natale, un supporto tradizionale perfettamente in linea col periodo. Aggiunge il sindaco ci saranno anche percorsi tematici che vanno dall'enogastronomia con numerosi operatori per giungere fino al turismo, alla cultura e al volontariato. Le luminari natalizie nelle strade della città dopo qualche intoppo iniziale ora funzionano. Il Comune, come negli anni scorsi, garantisce l'erogazione dell'energia elettrica, mentre i commercianti acquesi si sono fatti carico delle spese di locazione. Per i più piccoli sono state allestite aree gioco e anche una bella giostra in piazza della Bollente. I negozi, per movimentare il commercio natalizio, praticano sconti ed agevolazioni e c'è l'accordo tra il Comune e le associazioni di categoria del commercio che prevede la prima ora di parcheggio nelle zone blu gratuita. Come avete sentito il servizio del nostro collega Bruno Mattana, adesso un consiglio invece per le vostre letture durante le vacanze di Natale. Si intitola Fantasmi che uccidono, è il libro scritto dal sindaco di Capriato a Dorba per Sandro Cassulo, un giallo ambientato nelle terre del Basso Piemonte, una parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza. Vediamo il servizio. Durante le vacanze di Natale avremo sicuramente più tempo anche per dedicarci a una cosa che in genere è difficile da fare per mancanza di tempo, ovvero una bella lettura. Oggi abbiamo un autore un po' particolare, straordinario, parliamo del sindaco di Capriato d'Orba, Pier Sandro Cassulo che in questo caso è autore, lei ha scritto Un Giallo. Sì, ho scritto Un Giallo all'italiana che è ambientato nel nostro territorio dove praticamente nasce tutto dalla storia di un giornalista genovese che ultimamente lavorava per il secolo XIX, giornalista di Cranaca Nera che per origini familiari si trova a vivere nel paese di origine dei genitori e lì si sviluppa tutta la storia dove viene coinvolto in dei delitti di cui uno si svolge proprio sul territorio del suo paese e l'altro invece in un convento sopra Tortona. Quindi fantasmi che uccidono? Ci sono delle implicazioni che coinvolgono dei fantasmi. Come è che le è venute? Possono essere però questi fantasmi, non i fantasmi reali ma anche dei fantasmi così un po' immateriali. Com'è che le è venute di mettersi a fare lo scrittore? È stato il fatto di voler fare della beneficenza, ho avuto modo di essere coinvolto per ragioni familiari in una struttura Anfas di Varese dove vengono gestiti delle persone, dei ragazzi dalla tenere età con gravi handicap mentali e questa situazione tutte le volte che mi trovo a doverla affrontare mi si stringe il cuore. Quindi volevo dare dato che adesso questa crisi ha portato anche delle difficoltà economiche a questa Anfas che tra l'altro adesso è una fondazione, si chiama Fondazione Enrico Piatti Onlus di Varese, il ricavato di questo libro, della vendita, l'utile di questo libro andrà tutto in questa beneficenza a questa Onlus. Bene, adesso parliamo di mostra, andiamo a Torino, c'è una mostra che si chiama appunto I Love Torino, ce ne parla Carlotta Roce. Tante le opportunità offerte dalla mostra a mercato itinerante I Love It 100% allestita dal 4 al 7 dicembre nella sala a mostre della regione Piemonte. L'iniziativa, presentata in anteprima a novembre all'Ingotto, ad Arto, è che nelle sue prime due edizioni ha totalizzato 50.000 visitatori, è il frutto di una collaborazione tra CNA Torino, Casa Artigiani Torino e Confartigianato Imprese. La prima edizione fu pensata in occasione delle celebrazioni per i 150 anni dell'Unità d'Italia. La mostra è andata poi perfezionandosi e oggi è diventata un'opportunità rivolta al pubblico torinese, ma anche ai turisti, per uno shopping di Natale diverso. Si possono infatti acquistare direttamente dagli artigiani prodotte di eccellenza nei settori dell'alimentare, moda, accessori e legno arredo. Questa mostra parla da sola, nel senso che se le vedi pezzi, noi qui siamo in un posto abbastanza aulico, nel senso che si è scelto di mettere una serie di opere, di artisti, che come Mimmo Laganà, che è senz'altro uno dei maestri per quanto riguarda il riciclo. Devo dire che questa mostra rappresenta un primo passo per potenziare e sviluppare tutto quello che è il discorso legato al Natale dell'impresa artigiana. Questo rappresenta anche un modo della Regione Piemonte che ha per dare un aiuto concreto agli artigiani e per far sì che gli artigiani possano avere una loro casa, perché sia chiaro, questo è uno spazio maglieutico adibito agli artigiani. Avremmo voluto che la durata fosse tutto il mese di dicembre. In realtà la mostra chiuderà, mi sembra il 19 se non sbaglio, il 17, mi correggono, il 17, però io invito tutti i torinesi a venire a vederla, anche perché scoprirete un artigianato curioso. Siamo arrivati al termine della nostra informazione, tra pochissimo la pagina sportiva, in primo piano le arti marziali, successo per il Memorial di Karate svoltasi a Novi Ligure organizzato dal Tempio del Karate, club campione d'Italia nella disciplina. Oltre 200 gli atleti presenti in rappresentanza di numerose società. Poi subito dopo, come sempre, ci saranno le previsioni del tempo e la nostra rubrica degli appuntamenti e le notizie utili. Grazie per l'attenzione e arrivederci alla prossima edizione. Grazie per l'attenzione e arrivederci alla prossima edizione.